Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni, in via 25 Luglio 87. Perdono l'orientamento in località Croce e si smarriscono. Questo è ciò che è accaduto nel corso del pomeriggio di mercoledì scorso, quando presso la sala operativa della Polizia di Stato è giunta la richiesta di aiuto da parte di due ragazze, una inglese ed una spagnola, che in visita nella zona del castello Arichi si erano spinte fuori dai sentieri battuti, perdendosi nella località Croce. Le ragazze erano molto spaventate, soprattutto perché una di loro, affetta da asma bronchiale, non aveva con sé il bronco dilatatore. La sala operativa ha alertato immediatamente le volanti che si sono recate sul posto. Dopo vari giri intorno al castello, i poliziotti non sono riusciti a rintracciare le giovani, per cui gli agenti hanno rivolto la loro ricerca verso la montagna, ma dopo 20 minuti non riuscivano a sentire le ragazze. A questo punto si sono addentrati nella fitta buscaglia, superando le mura di cinta del Belvedere, da dove parte una zona priva di sentieri e piena di arbusti, ed è proprio da qui che hanno iniziato a sentire le voci delle due disperse, che sono state poi ritrovate in un dirupo a circa 60 metri di dislivello dalla loro posizione. Il dirupo era senza uscita, per cui gli agenti, creando un cordone umano e reggendosi ai rami degli alberi, sono riusciti a raggiungere le due ragazze spaventate e a riportarle in salvo. Nonostante qualche scoriazione, le due ragazze, così come gli agenti, non hanno riportato ferite. La polizia di Stato ricorda l'importanza di rispettare sempre i percorsi segnalati e seguire i sentieri battuti, senza mai inoltrarsi verso percorsi di montagna sconosciuti, col rischio che quella che può all'inizio sembrare semplicemente una bella avventura può trasformarsi in un vero e proprio incubo.